Ieri, nel giorno in cui è arrivato l'appello di Confindustria Alto Adriatico evitare di svolgere lavori su tetti danneggiati senza le dovute precauzioni, ci sono stati almeno due incidenti legati a verifiche o riparazioni a seguito del maltempo. In uno di questi a San Pietro a Natisone è morto un imprenditore di 70 anni. Un invito a evitare di far da sé e a rivolgersi a ditte specializzate oppure ai vigili del fuoco quando si opera in altezza proviene da chi si occupa di sicurezza. I dispositivi in altezza sono un po' più complessi, hanno bisogno di una formazione particolare che è un addestramento, si chiama, di terza categoria e normalmente l'imbragatura che praticamente protegge e aggancia il corpo a dei cavetti, chiamiamoli così, su cui poi durante la lavorazione mi posso collegare una linea vita ad esempio. Le cadute in altezza rappresentano una delle violazioni più frequenti e pericolose nei cantieri. Credo sia aggettivamente la casistica di situazioni di inadempienza dal punto di vista dei meccanismi della sicurezza che crea più danni e della più pericolosa in assoluto. L'edilizia è ovviamente, a maggior ragione, perché quando parliamo di lavori in altezza parliamo prevalentemente di edilizia, è fonte di numerosi infortuni. Da quale altezza ci sono questi obblighi? Da un punto di vista di norma nasce da sopra i due metri. La prudenza mi porta dai 50 centimetri in su. La caduta dall'alto è un'insidia molto sottovalutata.